Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove Oggi andremo a provare la Mega Monster Energy E vi giuro questa è l'unica mostra che per me è un peccato aprile visto che si apre diversamente dalle altre Spero di trovare anche le altre Mega Monster perché so che ne esistono altre Guardando anche i video di TuccioTV Però ad oggi l'unica che trovate è questa che comunque era o forse di nuovo è ad Alcamo per ora Adesso cambio in quadratura e andiamo nel dettaglio dell'altina Ok rieccomi non faccio sì un paragone con quella normale perché tanto cambia solo le dimensioni A parte che è in più la scritta Mega e forse la posizione delle scritte che è più alzata o più abbassata Qui abbiamo scritto Taurine, Ginseng, B-Vitamins, L-Carnitine e basta Qui abbiamo la descrizione dei valori, dei valori di tutto quello che è spiegato Mega Monster Energy Forse non è americana, penso che fosse americana ma sembra non essere americana dalla lingua Potrebbe essere anche in belga questa Chiaramente poi lo vedete nel titolo quando uscì questo video avrò messo diciamo la nazionità giusta in teoria Hons un nuovo ambo formatel cont inhin kull eslut birplik, zodat genoguot Vur later kant beworen Ga likers lot mi vega monster Hons dza zuargevic on orze Atleten en nu zi kanten zinjn er zuarn Fanu van Zizh vast ok En hols zeeu et blik mitt met En hand kant Open en en sluiten Danaz ad jivast vil Slans in jesho jorn jere Janen jaren Ces mos nous savons Ki plus i y en a Mies sess Ah forse ho capito Potrebbe essere francese Perchè sest dovrebbe essere utilizzato in Francia Poi Allors nous savons Desside de passer Hox Si mi sa che è francese Potrebbe essere proprio probabilmente francese Choses serices Plus de magie monster Pour quelques pieces en plus Notre neuve Grand format est refermable Si qui permette de la boire en plusieurs fois Deco pour un autre dernier point Lourdes La mega monster Les atletes et les musiciens en sont vos fos Et biettot toi aussi Di tutto questo leggende Chiaramente è chiaro che è francese Ce ne sono più che convinto Si tu parviens a ouvrir Et rifermer la canne D'une seule mène Secu tu A petrette Et beaucoup Des copines Quand tu et tes Plus je n'ai One hand No Asse Si assi Deve essere Perfetto Si chiaramente è francese Non pensavo fosse francese C'ero convinto che fosse Belga inizialmente Però è chiaro che da quello che c'è scritto È francese Va bene E altre particolità Qua sotto è normale Qua abbiamo come vi dicevo La linguetta particolare Con questo di qua Che si deve poi staccare Perfetto Cambiamo in guardatura Adesso andiamo ad aprirla Ok rieccomi Adesso andiamo ad aprire Vi giuro Questa è l'unica mossa Che per me è un peccato Andare ad aprire Perché È veramente Ah la Il modo di aprire Si diverso dalle altre Per questo è un peccato Questa la metto però qui Speriamo che si riattacchi Come si apre ora Vorrei capire Si apre così Ci credete che Non so come si apre Ok si apre Così perfetto Da notare che Non so se Certamente non si può vedere Quale in video Ma Qui c'è anche la mola Per quanto riguarda Per aprirla Comunque Adesso andiamo a versare Nel bicchiere Chiaramente so qual è il sapore Quello di Guaraná Quindi gusto classico Della Monster Energy Ho chiaramente Devo indicato Di mostrarvi una cosa Lattina Quanto è grande Cioè di quanti ml La lattina Si lo qualora Delle secondarie Di 553 ml Ne metto un altro po' Perché stai bocchieri Sa che è troppo piccolo Stop Ok Non mi ricordo Qual è il voto Che diedi Ai tempi Ma chiaramente Se era questo Dall'ultimo Chiaramente Lo stesso voto Quindi Mega Monster Energy Francese Chiaramente Per me il mio voto finale È 7 7 su 10 Voto Diciamo Poco sopra La sofficienza Perché Non sono molto amante Della Guaraná Quindi diciamo Che più di 7 Su 10 Non riesco comunque a dare Ti ripeto Non è male Quindi merita Il voto superiore A sopra la sofficienza Quindi Mega Monster Energy Francese Voto finale 7 su 10 Va bene Dove potete trovare Tranquillamente Questa l'ho trovata Nelle macchinette Ad Alcamo So che esistono Altre Mega Monster Per far vedere Esiste la Mega Monster Della Ultra White Esiste la Mega Monster Se non mi sbaglio Anche della Ultra Violet Ma il problema È trovarle Ora ripeto Sicuramente Le prenderò anche Se non dovessi Trovarle Online In caso Ripeto Non adesso Perché ho tanta lattina In cosa da portarvi Quindi Semmai Dovessero Comunque Scasseggiarmi Molto lattina Comunque Tra qualche Che devono arrivarmi Può essere Perché di quando Vedete sto video Già l'avrò presa Online Perché poi si Avrò fatto Altri ordini E niente Quindi voto finale 7 su 10 La trovate Ad Alcamo Nelle macchinette Solo lì Perché sia Teresilicini Si manca Nel mio comune Partenico Ma anche Carini Non c'è proprio Forse a Palermo È possibile Che in qualche Negozio americano L'abbiano Va bene Se il video è piaciuto Vi lascia un mi piace E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao